Ciao a tutti vediamo come possiamo aprire la tastiera virtuale su Windows 10 nel caso dobbiate usarla per una qualsiasi ragione Vi basta andare sulla barra delle applicazioni e fare mostra pulsante tastiera virtuale così ce l'avete qua in basso Aprite e abbiamo la nostra tastiera virtuale Ecco qua, intanto apriamo le emoji che sono belle Se avete bisogno di altre guide vi basta lasciare sotto un commento Ciao ciao